Call for Brain e la proiezione dei video TEDMED sono la sintesi di quanto detto prima, cioè per riuscire a contaminare meglio tecnologia e medicina è fondamentale riuscire a conoscere in modo sintetico in piccole presentazioni, in 10-12 minuti, quali sono le idee vincenti a livello direi globale, perché TEDMED è un'iniziativa di tipo globale e quindi Call Call for Brain dandoci questa possibilità ci consente proprio di avere accesso a queste nuove idee e quindi aiutano la contaminazione tra medicina e tecnologia.